idea zero tutto tutto a scocco io ormai mi muovo ho soltanto i soldi necessari per muovermi da uno scrocco all'altro cioè non pagano è un'arte che secondo me vale la pena insegnare sì potrebbe aiutare molte persone cazzo meno faccio io se lo tiene per sé giustamente scusa però potrei fare un bel corso ora sono tutti fanno corsi faccio il corso su come non fare un cazzo scroccare tu lo compreresti io lo comprerei ma immagino di spendere 600 euro aprire e non vedere un corso è questo ma questo poi lo scopri dopo intanto facciamo tutto il marketing però già che compro il corso secondo me sto facendo cioè sto sbagliando perché perché non lo sto scroccando cioè dovrei andare da un amico che l'ha comprato e farlo con lui ma lì siamo a livelli proprio moltissimi cioè la non mi servirebbe il corso poi devi calcolare anche il fatto che il corso è da fare da produrre quindi troppo i coglioni meglio così scrocco io e gli altri guardano le storie come professione cosa metteresti prima scrocker se esiste come termine o nulla facente in realtà se tu cerchi su google c'è scritto romanziere romanziere come mai secondo te perché ho scritto due libri scritto due libri sì perché il libro è una roba che tu praticamente scrivi e poi non devi fare cioè la gente lo compra è finito cioè lo scrivi una volta e poi basta cioè raccogli solo i soldi di quelli che lo acquistano giustamente anche se purtroppo non si guadagna quasi un cazzo un euro proprio no? sì non consiglio di scrivere libri a meno che non sei quello che ha scritto Harry Potter o il signore degli anelli cioè obiettivamente si guadagna veramente un cazzo meglio fare video su tiktok meglio fare video su tiktok si guadagna facendo video su tiktok con gli sponsor? non direttamente da tiktok ma dagli sponsor sì diciamo che io sono partito che ero povero come la merda e poi ho fatto la transizione sono diventato povero normale grazie ai video su tiktok quando è successo ciò? allora io ho iniziato a maggio del 2020 in piena quarantena sono rimasto sì subito dopo il primo lockdown sono rimasto povero come la merda fino a dicembre più o meno e poi dal 2021 in poi sto facendo la transizione ma prima lavoravi da qualche parte? sì lavoravo facevo il mio lavoro di merda che era praticamente ho lavorato negli hotel per dieci anni ho fatto tutti i lavori cioè receptionist booking prenotazioni ho fatto anche il direttore per due anni di hotel e praticamente quando diventi direttore che fai il salto di carriera tu prendi tre quattromila dire in più ma fai quattro volte gli sbattimenti di prima quindi poi a un certo punto ho detto no raga lo conosco bene come cosa però tu è di coglioni preferisco cioè avrei preferito tornare alla reception e fare lavori più perché almeno ho capito poi non hai responsabilità sei più però la cosa migliore è sempre non lavorare nel dubbio non lavorare sì te ora ti stai permettendo di non lavorare quindi sì 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 l'obiettivo mio proprio è il non lavoro non lavoro cioè non tanto il guadagno ma proprio il non lavoro ok cioè disporre del mio tempo capito vengo qua scrocco la la villa questo è l'obiettivo finale sembra giusto e nel mentre guadagnare comunque come secondo secondo filone sì ma vedete in secondo piano cioè preferisco scroccare piuttosto che proprio se arrivano anche i soldi bella di cioè adesso meglio di prima ma non il mio obiettivo non è guadagnare ma è proprio non andare a lavorare ci hanno fatto una domanda proprio qualche giorno fa meglio la fama o la ricchezza in sto caso meglio la fama per te no cioè non lo so solo con la ricchezza non scrocchi con la fama scrocchi è vero però non c'è non è che volevo essere avere la fama cioè volevi scroccare però per scroccare volevo solo non lavorare però tu dici sì è necessaria questa cosa se non fossi tra virgolette se non avessi follower nessuno mi farebbe scroccare a meno che non non trovi un modo tutto tuo ma quello è un potere a parte è difficile è difficile no no avete ragione sì sì la fama la fama sì hai parlato di follower quanti ne hai al momento su quale social tutti e due instagram e tiktok instagram 890 mila adesso tiktok un milione e sei con verificato su tiktok sì su instagram no perché su instagram il verificato lo danno a quelli che hanno combinato qualcosa nella vita io non ho mai combinato un cazzo quindi non me lo danno ho provato a richiedere ma non me lo danno voi avete modi per averlo conosco qualcuno che per un po' però non si può scroccare bisogna pagare? no allora no non si può andare a scroccoli ma in quanto tempo sei riuscito a costruire questa community? ma due anni da maggio 2020 siamo a due anni e qualche mese due anni e qualche mese vabbè è cresciuto esponenzialmente sì è costante sono numeri non da poco in due anni poco più di due anni non è male sì qual è il format principale? ma sono tanti sai che non ti saprei dire qual è il format sono 4-5 format che ripropongo e poi sono gli argomenti cioè se tu fai un video nuovo dipende ogni volta dal singolo video da quello che dici nel contenuto che porti nel singolo video cioè non è il format secondo me cioè domani magari mi faccio un altro video totalmente diverso e potrebbe diventare un format cioè non lo so ma il tuo preferito fatto finora a me piace narrare piace scrivere quindi mi piace quando racconto la mia giornata questa mattina mi sono svegliato questa cadenza da telegiornale eh sì è una cadenza da telegiornale perché? però dopo un po' rompe i cogliò cioè sono due anni che vado ma la gente mi dice dai sì scrivere questa mattina hai paura che questo format finisca? beh sì potrebbe finire dall'oggi al domani ma comunque dipende da me cioè se la mia creatività prosegue non finisce e comunque anche se dovesse finire domani è sempre stato meglio che andare a lavorare ok cioè se avessi se forse avessi continuato a lavorare piuttosto che fare sta roba sarebbe stato molto peggio cioè avrei guadagnato molto meno avrei scroccato molto meno avrei fatto mille esperienze in meno quindi comunque anche se finisce domani io sono soddisfatto te dici ti godi il periodo finché dura ma se domani finisse cosa faresti? eh sono cazzi perché io sono due anni che continuo a ripetere che non voglio fare un cazzo e quindi anche mandare chi c'è chi cazzo mi prende voi state cercando qualcuno? potremmo che non si sa mai ma un'agenzia di social media marketing qualcosa te alla fine come numeri e allora mi rivolgo a voi nel caso dovessi fallire va bene ti assumiamo noi lo stipendio normale riuscirete riuscireste a sì vediamo come va la prima stagione magari ti diamo un paio di Red Bull eh no comunque per sostentarmi non sono sufficienti le Red Bull guarda dovrei fare qualcosa di estremo in questa puntata come inizierate a ercare nudo tu ercare nudo sul tavolo così questa puntata avrà successo comunque posso appoggiare il pene devi appoggiare il pene così questa puntata esplode il nostro format viene conosciuto e noi possiamo assumerti e pagarti perfetto allora ci penso valutiamo ma com'è nata? cioè te eri già così e hai detto buona mi filmo lo metto sui social o hai detto mi devo creare questo personaggio perché mi piace mi farebbe ridere a me allora io penso di essere così per l'ottanta per settanta ottanta per cento il resto è un po' narrazione un po' costruito tra virgolette però partiamo da una base di verità molto avanzata è nata che originariamente io avevo scritto il libro cioè il primo libro l'ho scritto prima dei social e ho aperto la pagina per promuovere il libro quindi mettevo le frasi solo che le frasi non se le cagava nessuno la gente non legge più un cazzo anche il libro non so che cazzo l'ho scritto a fare perché comunque cioè gli italiani sono un popolo di non lettori quindi non lo so perché l'ho scritto e poi però quando ho detto provo a metterci la faccia le frasi e le robe a dirle io ho iniziato a vedere i primi risultati poi cioè tra virgolette esploso TikTok durante il lockdown così e vedevo cazzo gente che faceva video di merda e per milioni di visualizzazioni ho detto ma figa posso farlo anch'io sta roba qua ho provato è nato il primo virale il secondo virale ho detto figa sai che quasi quasi mi licenzio e infatti è andata come è andato il licenziamento? no in realtà non mi sono licenziato cioè è stato una cioè c'è stato il covid io lavoravo negli hotel l'hotel ha chiuso per un periodo e quindi è stato tra virgolette una cosa fisiologica cioè da che avevo provato ho detto adesso entro prendevo la disoccupazione nel frattempo affiancavo sta roba dei social sperando che diventasse diciamo una rotondare lo stipendio e poi però non mi conveniva più neanche cercare lavoro cioè no mi aspettavo il si pronto dimmi Frank no mi licenzo mi do i social ciao mi do il tiktok magari troppo romanzata questa magari il prossimo libro che scrive no non scrivo più un cazzo perché non si guadagna non lo so vediamo finché posso continuare a fare le marchette le marchette raga pagano un botto quindi tu fai le pubblicità non sei prima a dirlo no io ne faccio un botto di marchette cioè io in realtà faccio tutto il resto solo per fare le marchette e guadagnare senza andare a lavorare sono tutte dichiarate le marchette che fai? tutte tutte no però spesso le dichiaro cioè tipo benvenuti nella marchetta ormai la gente lo sa ok certo format che funziona una media di visualizzazioni a video? non lo so no non boh perché in base alle visualizzazioni pagano di più le marchette sì 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 beh ovvio certo però ultimamente boh non lo so su Instagram i reel un milione più o meno lo fanno io ero curioso di sapere una cosa sulle marchette se pubblicizzi nei tuoi video ciò che paga di più o anche ciò in cui credi cioè ti è mai capitato di pubblicizzare un prodotto o qualcosa in cui non credevi? praticamente sì no non è vero no non è vero no me ne arrivano 30 o 40 di richieste al giorno di sponsor più o meno e poi ho tra colleghi tra virgolette fanno lo stesso mestiere ci scriviamo ma tu hai promosso quello com'è hai avuto feedback negativi quindi ti informi perché nel grande mucchio cioè io non so chi cazzo è serio o chi è affidabile e chi non è affidabile cioè e quindi ci informiamo tra di noi tu hai promosso hai avuto feedback negativi quindi cerco sempre di non promuovere merve di base ti informi non mi è mai capitato di di gente che che ha avuto cioè che è stata attroffata da da quello che ho promosso quindi comunque una cernita c'è sempre ok e come fai a fare questa cernita delle 30 40 richieste che ti arrivano vabbè alcuni esordischi già come ciao frank quanto chiedi per una marchetta già lì meglio non rispondere gente poco seria sì e poi mi informo con tutti i miei colleghi tra virgolette che ci sentiamo spesso amici influencer che gli chiedo ma tu l'hai promosso qui e te l'ho detto così di base così poi ovvio cerchi informazioni online capisci un po' di base così e il prezzo gioca gioca molto a favore sulla scelta allora diciamo che se è un prodotto che a me piace è una figata mi interessa i prezzi sono bassi a volte non chiedo neanche soldi tipo per avere birra o cose così perché te la vedi ti piace vero tipo il format che faccio io nelle storie è proprio andare a scroccare nei ristoranti e io chiedo zero cioè giustamente vado a scroccare quando la gente vede che io sto scroccando nel ristorante altri 7-8 ristoranti mi scrivono vieni a scroccare anche da me vieni a scroccare e quindi va avanti il format se io chiedessi soldi non avrei tutti questi ristoranti dove poter mangiare gratis ti vai a mangiare gratis in giro gli fai pubblicità certo sono loro a chiederti ti prego vieni a sfruttare io non ho mai chiesto una volta mai chiesto una volta a un ristoratore posso venire a mangiare da te mai tutti quelli dove vado mi hanno sempre chiesto loro infatti questo è bello perché molti molti miei colleghi tra virgolette invece chiedono loro cioè mi hanno detto che scrivono c'è anche una tecnica figa perché tu praticamente vedi il ristorante che ti piace scrivi in DM scrivi ciao vorrei prenotare è molto generico cioè nel senso poi magari c'è la social media manager che dice cazzo questo c'hai i follower vieni gratis e infatti mi ha detto che funziona di brutto cioè sta roba qua geniale tu fai finta che vuoi prenotare pagando e invece poi scrocchi questo è un piccolo spoiler del corso sullo scrocco che uscirà quando? no non ci voglio fare un cazzo nessun cazzo una nozione però beh buono sapersi un consiglio di vita davvero curioso di sapere se a livello creativo cambiava qualcosa fra i prodotti che ti piace sponsorizzare e quelli che non ti piace o meglio quelli a cui alzi il prezzo perché non ti interessano ma diciamo che cerco sempre di trovare una roba divertente per promuovere cioè cerco sempre di non farla pesare la marchetta perché poi facendone tante poi la gente si rompe il cazzo quindi vede solo pubblicità su pubblicità in caso dopo esatto comunque li ho abituati bene cioè i follower miei seri lo sanno cioè ragazzi io faccio le marchette faccio tutto il resto solo per poter fare le marchette quindi non rompete il cazzo se faccio le marchette poi c'è sempre lo stronzo che dice ah ti sei venduto cazzo ti sei venduto cioè faccio quello apposto cioè quello è il mio lavoro allora rompete i coglioni non ti piace la marchetta cambia cambia video cambia storia e non cagare il cazzo è certo l'erogativa numero uno e non cagare il cazzo sempre però sai che giusto coinciso diretto ci piace pragmatico cioè cosa fa cioè tu vieni nel mio canale vedi io faccio lavoro tra virgolette creativo tutti i giorni non paghi un cazzo in più mi rompi i coglioni se c'è la pubblicità la vedi in televisione te la vedi anche sul mio canale se no vai a fare il culo potresti fare gli abbonati non vedono le marchette eh ma come fai cioè su instagram se poi mica poi per fare gli short su youtube holyfans 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 secondo me farei un botto di successo secondo me se mi scrivo su holyfans con la mia ragazza faccio milioni di soldi holyfans 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 non si può fare non si può fare ma franke non so se conosci Pio Medeo che loro sono ti sei ispirato a loro per scroccare magari no non è che mi sono cioè no è venuto in realtà lo scocco è nato in autonomia cioè mi ha invitato il primo ristorante poi mi ha invitato il secondo il terzo il quarto poi mi ha invitato il dentista poi mi ha inventato quello che fa trattamenti adesso io ho un file excel dove ho praticamente tutti quelli che mi hanno invitato i nomi instagram con i riferimenti infatti dovrei geolocalizzarli perché praticamente cosa succede quando ne accumulo 5 6 7 nella stessa zona prendo e faccio la vacanza quindi faccio il b&b questa è tipo la bibbia di frank sì mi faccio il b&b di qua sono altre emozioni mi faccio il ristorante lì capisco dove sono dislocati e vado tipo a roma se vado a roma secondo me posso stare un mese gratis un mese tutto tra b&b e ristorante un mese e poi si riparte sì sì e poi vado nelle altre ma quindi quanto puoi arrivare a scroccare cioè quel tuo top che hai scroccato diciamo top che ho scroccato le 6 shell cioè obiettivamente la cosa più figa più figa sì viaggio in business volo più hotel grazie a Ludovico Ludovico su instagram raga non è una marchetta che salutiamo non è qua Ludovico mi raccomando non ha il fucile puntato per favore offri viaggio in business praticamente lui fa un corso sul travel hacking che io chiamo travel scrocking e ti insegna tramite i programmi di fedeltà a scroccare le vacanze tutto in modo legale tutto in modo legale tutto free tutto bella lì tutto bella lì sì e se tutti al mondo lo facessimo funzionerebbe ancora questo è un problema ma stessa roba anche sul non fare un cazzo perché io lo predico se tutti si mettono a fare un cazzo è un casino il mondo va alla deriva infatti raga io non faccio un cazzo voi lavorate infatti me lo dicevi prima che se tutti smettiamo di lavorare è un casino per tutti è un bordello è un bordello perché metti caso capito tu vuoi andare al bar a bere nessuno ti fa dire ci saranno i robot nessuno te la offre magari infatti la tecnologia secondo me nel futuro aiuterà tanto perché più va avanti l'innovazione tecnologica meno lavoro però il robot non puoi scroccarlo perché non vede i tuoi follower magari su Instagram il barista può dirti ah Frank dai magari il brand di robot che ti sponsorizza quindi ti invita cambieranno tutte le dinamiche della società non serviranno più follower più pagare tanto e lavorano i robot magari finiremo come uomini su delle poltrone volanti tutti ciccionissimi a non fare un cazzo ma vero infatti sto sogno di una vita non facendo un cazzo e scroccando sempre i ristoranti bisogna stare attenti a non ingrassare però poi alla fine ci penso e dico cazzo bene la fidanzata ce l'ho scrocchi una palestra in casa esatto ma infatti cambierò format magari anziché scroccare il ristorante inizierò a scroccare nutrizionisti e personal trainer hai detto che è una ragazza quindi ormai non devi stare attento alla linea che altro ma lei che ti segue ovunque si vede anche nei tuoi video lei lavora? lei ha ancora quel problemino lì problema ci sta lavorando però sul lavoro lei lavora purtroppo sai cosa io non mi sento ancora di dirle abbandona e andiamo avanti scroccare perché metti caso domani mi va di merda me va di merda tutti e due capito? giustamente diventi un mantenuto quindi è giusto che ancora lavori fino a che poi vedremo lei non fa nulla sui social cioè non ha nulla al momento no ma tu hai un team dietro che lavora con te o sei solo? autonomo? ho un'agenzia ok che se voglio gli passo e non è in esclusiva quindi cioè se ho voglia gli passo i lavori che gestiscono per me o se no lo faccio io in autonomia poi ho diverse persone che magari manicate con i brand che ogni tanto mi propongono dei lavori però di fatto non c'è creativamente o roba così no sono da solo da solo vabbè quindi è già un fare nel non fare un cazzo potreste ancora di più non fare un cazzo adesso grazie a dio sta roba è vista come tra virgolette un lavoro per me non lo è perché comunque le cazzate già le dicevo prima gratis adesso vengo pure pagato quindi cazzo non ti pesa a fine giornata a fine settimana perché da quello che racconti in realtà fai molto mi pesava quando mi dovevo alzare alle 5 di mattina andare in albergo a fare i turni di notte lì mi pesava ti pesava di più adesso che cazzo mi pesa c'è oh bella raga fate i suoi papi cos'è però ti ho visto anche qua stavi entrando nella stanza del podcast col telefono in mano a fare contenuti sì io mi diverso non ti pesa ti diverte bello però prima abbiamo parlato della cosa più figa che hai scroccato ma qual è la cosa più costosa quella che hai detto cazzo sto scroccando una cosa che se avessi pagato avrei dovuto sborsare un bel po' ma mi sa la stessa roba cioè mi sa sempre cioè vuolo in business 10 giorni ad E6 Shell 0 euro 0 euro quanto che valore ha una vacanza così più o meno cioè eh non lo so un bel po' potevo scroccare potevo scroccare un'automobile mi avevano proposto di mi davano un BMW e dovevo lo legge sì però dovevo fare poi troppe storie tanto la macchia non la uso mai cioè io sto a casa sul divano faccio i video sul divano quindi hai detto di no anche a proposte di scrocco ma tutti i giorni dico di no a proposte di di scrocco di sponsor tutti i giorni cioè dico di no non rispondo cioè non c'ho voglia anche ghosti 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 agli sponsor ma nelle tue giornate no hai degli hobby fai qualcosa esci bullying allora io sono un uomo semplice mi piace bere mangiare e accoppiarmi quindi questo faccio cioè questo la ricerca di queste tre cose continue durante durante il giorno questo mi piace vabbè alla fine è una vita onesta rientra tutto nel non fare un cazzo anche perché in tutto questo non fare un cazzo te comunque guadagni e guadagni bene perché ti permetti di vivere non dico aggiatamente al momento sì sì al momento non mi posso lamentare cioè ho fatto la transizione sono partito povero come la merda e poi gradualmente sei salito speriamo che duri dai vediamo un po' bello è un coglione andare a lavorare ti dico quando ho capito sta roba ho detto ma io veramente mi alzavo facevo tutti queste rotture di coglioni notti giorni cose stare dietro al capo che caga il cazzo per guadagnare 3000 lire cioè è un coglione raga off camera ci dai qualche consiglio di vita perché probabilmente è la strada giusta sì no non lo so che consiglio di vita non ho ne ho idea una frase tua una frase mia sì un consiglio non mi viene un cazzo adesso ci guardiamo tutto tutti i toc e impariamo da lì però questo è rappresentativo non mi viene un cazzo non mi viene un cazzo bisogna indotto non mi viene cioè se parliamo poi magari ti do una massima mentre parliamo se ti viene in mente voglio una massima c'è tempo allora franca abbiamo pensato per te un gioco abbiamo pensato di farti leggere degli articoli di satira online molto scherzosi e tu dovrai leggerli come se fosse un telegiornale proviamo dai proviamoci renderli telegiornale ok allora questo è il primo io ti chiedo di leggere il titolo e poi le prime tre righe qua sottolineate siamo pronti facciamo una sigla iniziale e benvenuti a idea zero telegiornale questa mattina devo leggere degli articoli a cazzo banca del seme di lusso lancia lo sperma invecchiato in barrique in questi anni il settore del lusso non ha mai visto battute dal resto a testimoniarlo è la notizia riguardante la nascita della executive camshot bank la prima banca del seme che si propone di rispondere alla cliente la più esigente infatto di fecondazione assistita nel primo istituto infatti ad offrire servizi di fecondazione assistita con sperma invecchiato in barrique seguitemi per altre notizie del cazzo era vernice tossica ricoverati allo spallanzani gli autori delle scritte novax sui muri dell'ospedale dopo il caso della mamma che qualche anno fa aveva contratto il tetano incatenandosi al cancello della scuola dei figli per opporsi alla loro vaccinazione un nuovo episodio ha tracciato una profonda censura nei gruppi analisti che da anni studiano il movimento novax le notizie inutili terminano qui adesso linea allo studio grazie mille francesco per averci letto queste notizie davvero molto interessanti adesso passiamo alla rubrica molto amata da voi che si chiama vita da vecchio più o meno vita da vecchio e questa mattina mi sono alzato scattante come i vecchi nelle televendite delle poltrone elettriche ieri ero andato a letto con un dolore al risveglio avevo tre dolori nuovi e vedo persone della mia età che si arrampicano fanno jogging e invece per me è già complicatissimo mettere la gamba nei pantaloni senza perdere l'equilibrio e sono accompagnato costantemente da fastidi occasionali che poi si trasformano in miei compagni di vita godetevi la gioventù perché a un certo punto senza preavviso allacciandovi le scarpe inizierete a chiedervi cos'altro potete fare già che siete per terra posto grazie mille Frank per questa rubrica rimanete questa è live è la prima volta che leggo fa un certo effetto sentire dal video sono innamorato domani solita ora TG Frank tu hai mai scruccato grazie alla tua fama un po' di figa allora io sono fidanzato cioè io conosco la mia ragazza sto insieme da prima dei social quindi ho detto cazzo se avessi sbloccato questo superpotere prima sarei stato pieno di figli cioè non sono Brad Pitt ma mi scrivono cioè ti mandano foto nude no fotine no qualche foto è arrivata qualche richiesta strana una volta una mi ha chiesto vendevo il libro autografato mi ha chiesto mi puoi mandare il tuo libro eiaculato e io cioè poi vabbè lei ha detto un termine diverso però faccio vada ho detto alla mia ragazza gli faccio baby ma questa hai visto che cosa mi ha scritto ma questa è fuori ha detto baby sono dieci ore in più però però sai che lavoro non me l'ha fatto mandare non me l'ha fatto mandare fa dai ti fa aiutare la tua ragazza no non lo faccio però comunque sì una volta ero tipo in Puglia a fare uno scrock tour mi è arrivato un messaggio da una che mi fa sono a casa sono con una mia amica e abbiamo la casa libera siamo ubriache vieni quindi potevi scrocare il letto e tu dici cazzo tu sei lì dici guarda a vedere anche capito molto cioè trombabile si può dire poi però mi sento mia ragazza no no baby non è non è solo per lavoro no no è solo per lavoro è una musicista no? lei tromba sì sì bravo te batteria 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 tromba ok ok chiaro che tu dici cazzo cioè anni fa sta roba ero già lì e invece no ma c'è no c'è qualcosa di di troppo grande adesso con la mia ragazza che non lo farei però chi inizia si appresta ad entrare in questo mondo raga si 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 tromba di brutto sicuro e invece hai ormai la fede al dito? no la fede non al dito perché sposarsi è una rottura un po' di di cazzo cioè c'è da fare bisogna pagare per il matrimonio costa troppo tu dico stress stress troppi cazzi però la fede nel cuore nel cuore oh questa è carina la vittoria sarebbe scroccare il matrimonio ma sai che ho già i ho già i contatti i fornitori ho già i contatti anche per i pannolini per l'eventuale ho già tutto segnato è tutto nel file excel quando finisci un matrimonio ti butti e lo fai tu ho tutti i contatti per scroccare nel file excel nel file excel c'è tutto eventualmente ce lo fai vedere off camera in realtà adesso qua ho il file il file di testo il file di testo che si chiama gente utile ah proprio no raga è vero anche su questi vedi qua ci sono tutti i nomi di instagram vedi è una lista infinita barbiere a Cagliari pizzeria a Torino discoteca a Firenze manutenzione auto a Colonia email contatti ristorante marino al posto le nuove pagine bianche taxia a Roma bar a Saronno pizzeria a Danimarca perché anche dall'estero Danimarca non vale sembra un po' un danese comunque sì un osterie un vichingo un vichingo un vichingo un vichingo discoteca c'è tutto quello si può scroccare tutto e qua a Porto Cervo hai dei giri buoni allora qua in Sardegna ho dei ristoranti gente che porta a fare le escursioni in barca la maddalena così c'era un barbiere un dentista qualcosa c'è un po' di salute cura personale della persona allora Frank ci porta a cena valutiamo adesso sappiamo se abbiamo roba vicino in zona perché sono dislocati scrocchiamo un passaggio in caso tranquillamente ci siamo vediamo un taxi noi dobbiamo imparare io voglio finire questa vacanza già a un livello iniziale di scroc è bello come possiamo chiamarlo scrocking scrocking un po' all'inglese scrocking scrocking ma te l'avresti mai detto quando eri un direttore a tazza bene 6 no cazzo io tra due anni no assolutamente no faccio 6.000 euro con un video l'obiettivo era arrotondare lo stipendio ci ho detto se riesco tramite attività social a fare 300-400 euro al mese quello era l'obiettivo te ora sei all'inizio del del tuo diciamo successo possiamo chiamarlo percorso percorso ma in che punto dell'onda ti senti nella parte in cui sale l'onda nella cresta già nella discesa no lo so non ci penso te fai quello che vuoi fare no io vado free non hai paura che magari no te l'ho detto cioè se finisce domani finisce sono contento uguale riprenderesti un'altra onda o la lasceresti andare cercherei di farla andare più possibile quindi non ne prendi un'altra no no si ne prendi un'altra e la fai andare ovvio ma poi è anche il giro di contatti che ti fai hai capito prima se tu scrivevi a persona x non ti avrebbe mai cagato adesso a persona x li scrivi e dici ah cazzo questo c'ha i follower e gli rispondo come ti rapporti con quelle persone lì quelle che magari prima non ti cagavano poi appena hai iniziato a fare i follower eh grande amicone my friend come stai quello è una roba ce ne sono non sì ce ne sono ma è una roba che capisco cioè se uno è è solo per interesse fa l'amicone solo per interesse o no o cerco cioè capisco sono molto empatico cioè cerco capisco bene quando uno mi usa tra virgolette o quando uno è veramente interessato a quello che dico a quello che faccio cioè le parole che usi mentre comunichi sono importanti io penso di di essere empatico ti è mai capitato uno che ti ha utilizzato? sì ma non da un certo punto smetto di rispondere piano piano ti scivola addosso proprio sì me ne sbatti i coglioni cioè la maggior parte delle volte sì è gente che che tra virgolette sta con me solo per quelle gli amici gli amici sono quelli di una vita cioè quelli rimangono gli amici poi ho trovato anche amici dopo ma pochi cioè selezionati sì selezionati cioè io ho una cosa che dico sempre se te capisci che quello lo sta facendo per usarti tranne vantaggio c'è quello che magari ovvio ovvio certo pensa ora io gli offro magari la benzina per la macchina così domani mi invito a casa faccio il festone è tutto gratis ti fa offrire la macchina vaffanculo stessa cosa con la donna gliela do così si innamora mi metto a posto tutta la vita te la fai dare poi vaffanculo cioè se lo capisci prima alla fine è un vantaggio sì 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 almeno fino adesso l'ho sempre capito è difficile quando non lo capisci perché c'è la gente furba e ci fregano poi c'è gente che non lo capisce e si fa male hai paura di questa cosa? no batti i coglioni a cosa pensi sia dovuto questo successo? alla tua persona alla tua personalità al tuo modo di parlare alla tua comicità cos'è stato? qual è stato il punto di svolta che da un punto all'altro ti ha fatto elevare così tanta fama così tanti follower? raga non lo so cioè non mi so rispondere ho iniziato è andata botta di culo te ti guarderesti? sì io mi guardo io mi guardo cioè io tutti i video che faccio cioè spesso mi ritrovo a vedere il mio profilo a riguardarmi a capire quali sono andati più virali degli altri perché sono andati più virali degli altri quindi come strumento per capire quali altri contenuti produrre come ho comunicato capisco cosa funziona cosa non funziona riguardando me stesso anche ma quindi non sapendo rispondere a questa domanda me ne viene spontanea un'altra in questi due anni e poco più ti è mai capitato di vivere la sindrome dell'impostore? cioè che tu intendi di non meritare sì sono in cima però non so perché potrebbe esserci qualcun altro non è niente di speciale no sono in tra virgolette tu dici sono in cima bella lì sfrutto i vantaggi della cima stai te la godi giustamente sì sì i benefici è giusto così tra l'altro Mondadori che è la casa editrice per la quale ho scritto il secondo libro mi ha mandato delle copie gratis e quindi volevo dartela così magari da darvela a voi così mi faccio anche pubblicità e magari vendi di più mi raccomando sia chiaro non state scroccando voi a me sembra che la mia policy aziendale numero uno è che soltanto io posso scroccare agli altri ma gli altri non possono mai cioè io non ho mai capito uscite può andare infatti infatti questi libri sono stati scroccati dalle case editrici rispettive quindi noi sono diciamo state scroccando per induzione è tutt'altro che non fare nulla due libri infatti questi li scrissi mentre lavoravo perché cercavo di non di uscire da questa condizione speravo detto scrivo un libro magari faccio i soldi invece stavo iniziando sempre di più a far meno è stata una escalation però ormai li ho già scritti meno male tu hai detto che hai iniziato col covid quindi il covid è stata una tua fortuna perché è stata una fortuna io lavoravo in hotel durante il covid da che l'hotel era strapieno è iniziato a non arrivare più nessuno io dentro di me dicevo vuoi vedere che adesso mi pagano e io sto a casa e non faccio un cazzo mi danno un cazzo integrazione dai 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 covid meno male poverini chi ha avuto problemi ma per me è stato è stato un bene tra virgolette nel male è stato un bene per la mia carriera poi un male è un male e sarà sempre un male però a me è andata bene col senno di poi avresti preferito continuare a lavorare ed evitare una pandemia o sei felice di come è andata questa è una domanda di merda molto di merda ci ragiono ti faccio sapere dai ti aggioro ti mando un messaggio è perché senza il covid dai la pandemia è stata brutta per qualcuno quindi non scherziamo su sta roba perché senza il covid magari non ti saresti mai buttato no non avrei avuto il tempo libero necessario per potermi dedicare cioè in realtà più che il covid che è stato il fatto di avere tempo libero perché se tu continui a lavorare non hai tempo per pensare ad altre robe quindi cioè il fatto di avere tanto tempo libero e anche con la pressione al culo del fatto che se non fai qualcosa qua il tuo lavoro magari non c'è più e scompare perché cioè se fosse continuata la pandemia gli hotel non so quanto sarebbero durati ancora ti dà quella spinta per dire cazzo devo ingegnarmi a fare qualcos'altro quindi con la consapevolezza che hai acquisito grazie purtroppo al covid magari tornando indietro se non ci fosse stato ti saresti licenziato e avresti iniziato questo percorso non so se avrai avuto i coglioni con la consapevolezza di adesso ah con la consapevolezza di adesso sì e ma come fai non puoi avere la consapevolezza fino a che c'è sempre andare gradualmente anche chi dice mollo il lavoro parto con una roba nuova a volte ti va bene a volte ti va male cioè c'è gente che si fa male veramente quindi quando capisci che da quella roba puoi iniziare veramente a monetizzare allora ok molli cioè ma fino a che non è la certezza poi cosa fai se no vai a chiedere i tuoi soldi ai tuoi genitori che sono più poveri cioè non ha senso e dato che una delle cose più grandi che non si possono scroccare nel nostro paese sono le tasse ti rompe il cazzo che devi pagare le tasse cioè a me è pensato di andare in un posto dove magari si pagano di meno non si pagano in realtà no allora in realtà vabbè io ho aperto la partita IVA due anni fa quindi le tasse le ho pagate una volta no ho aperto la partita IVA sì le ho pagate una volta una volta devi pagare quest'anno quindi l'anno prossimo ti saprò dire esattamente perché ancora non ho capito quante tasse pago sinceramente c'è il commercialista ti piacerebbe fare emi gratis tipo pro con Frank cioè ce la fareste ti piacerebbe un voto sì mi piacerebbe se mi volete più a Medeo se volete secondo me sarebbe un più ho scroccato tantissimo un trio fantastico io penso come si chiamerebbe il trio più a Medeo e Frank no funziona ma va impossibile più a Medeo e mi scrocco scrocco in autonomia scrocco in autonomia tranquillo poi non sono per la televisione mi hanno proposto robe di televisione ma non ho sempre rifiutato cioè ho sempre ho sempre detto di no perché lì vorrebbe dire puoi lavorare perché devi stare dietro a delle dinamiche c'è gente che potrebbe romperti i coglioni invece io mi alzo la mattina e dico ah che marchetta devo fare ora questa questa ok faccio una marchetta bella raga swipe up poi finito non faccio un cazzo invece se tu vai in televisione poi devi lavorare me l'han detto te l'han detto me l'han detto non va bene entri in un circolo sì sì di star dietro ma hai progetti futuri sul magari l'unico progetto è non andare a lavorare l'unico proprio progetto di vita quello è un metodo abbastanza scientifico sa dove non vuole arrivare quindi prende le strade per arrivare d'altro live su twitch cose così non ci abbiamo pensato no non mi piacciono le live cioè ne ho fatte veramente poche cioè non mi piace pensare al contenuto ragionare e farlo perché in live puoi dire un sacco di stronzate cioè tipo adesso avrò detto un botto di cagate cioè non mi sputtano però sai che siamo in diretta vero? saluta Gigino il pasticcere che ci sta seguendo grazie per la sub sicuramente avevo detto qualche stronzata poi sì dai non mi sputtano quindi a te piace avere il controllo sui tuoi contenuti sulla tua immagine su come appare sì cioè decido io cosa dire cosa non dire cosa fare cosa non fare te usavi tiktok anche prima di magari quando facevi il direttore già guardavi tiktok no assolutamente no ero contro come sta? la mia ragazza mi pida per il culo mi dice ma tu io quando ti ho conosciuto ti volevo fare le foto non volevi fare ma perché facevo il direttore di hotel capito non volevo comparire farmi vedere perché poi c'erano i colleghi che magari dicono ah guarda quello cosa ha fatto il direttore quindi ero molto riservato anzi se uno mi faceva fa diceva no a non pubblicare non pubblicare un caso adesso sono totalmente diverso come sta cioè te durante la quarantena quindi l'hai scaricato e visto gente faceva milioni e tu lo faccio anch'io ma come sta cioè non è stato un po' un trauma imparare a fare sti video poi ma allora i primi video quando hai dieci follower dici faccio il cazzo cioè tanto chi cazzo mi vede qui posso fare quello che voglio infatti i primi video erano imbarazzati se scorriva indietro a 2020 ti ho fatto dei video di merda proprio presi e messi senza sottotitoli senza senso io che magari ti viene in mente una cagata dico ragazzi cagata totale poi più li fai e più capisci cosa funziona e cosa non funziona tutta formazione impari sul campo sul te stesso e più ne fai e più diventi bravo già bravo è una cosa difficile cioè sembra facile ma non è facile io faccio video ma non saprei fare un tiktok ci sono delle beh effettivamente potrei fare un corso ci sono dei trucchettini siamo due cose uno dei trucchi per invitare la gente a comprare il tuo corso secondo me no no il corso non si fa più uno dei trucchettini la cosa secondo me una roba che funziona i primi tre secondi del video perché siamo in un momento in cui la gente vede e mi fa cagare è l'engagement vado avanti vado avanti i primi tre secondi io dico la frase le prime tre parole ficcanti che ti dici cazzo continuo a vedere sono le prime parole che ti tengono a metà a metà puoi anche dire stronzate però è la fine lasciare con un finale quello è fondamentale diciamo anche quasi il motivo per cui noi iniziamo roba gratis qua senza cose senza un cazzo anche noi iniziamo senza l'intro magari per questa cosa per iniziare subito a tenere la gente attaccata senza che dove che deve schippare la parte ciao a tutti ragazzi benvenuti esattamente ciao benvenuti qui siamo con mi interessa a nessuno la gente deve capire se il video mi interessa o no perché tu ogni video che fai devi immaginare di farlo come se non avessi una fanbase cioè partiamo da zero tutte le volte quindi deve essere capibile da più persone se vuoi fare i numeri altri consigli perché puoi prendere sempre gente nuova quello che ti trattiene comunque sia alla fine sono i primi secondi sono tutti schipperebbero perché siamo diventati molto frenetici i primi tre secondi metti un culo metti due tette sei sicuro che la gente lo guarda sei migliori l'ottanta per cento di tiktok praticamente niente devo farmi tiktok e iniziare a capire come funziona questo mondo mi sa se basta e metti tipo tue chiappe i primi tre secondi la gente guarda tutto il tuo video forse il mio culo è meglio non metterlo su tiktok però secondo me non lo guardo tu fai tre secondi nel tuo culo poi inizi con un argomento serio così sai già è proprio questo il problema la gente schippa perché vede il mio culo immagino il video che inizia con lui col culo e poi benvenuti oggi vi spiegherò perché oggi investiamo in creep investiamo in creep tre secondi col culo di fuori e invece poi anche un'altra roba tagliare tutte le parti morte cioè io mi rendo conto che a volte anche quando fai le storie tu magari fai una storia da un minuto quattro snap in quei quattro snap magari ci sono 0,9 secondi in cui tu fai se tu tagli è più attiva sì la gente vuole contenuto e basta è il classico contenuto da iene bravo tutti i jump cut tolgono tutti appunto i tempi morti silenzio funziona di brutto tagliate tutti i tempi morti se volete fare visualizzazioni qua sono altre nozioni gratis stiamo facendo un corso gratis noi stiamo imparando non è che vi vendete la puntata non te l'abbiamo detto ma ti stiamo scroccando i contenuti infatti regà la puntata scrocchiamo allo scroccone scrocchiamo allo scroccone bellissimo vabbè al re qui siamo su un altro livello al re al re dello scroccing cioè regà una lista con scritti tutti i posti i nomi non l'ho mai vista ed è una cosa fantastica bellissima devo ho bisogno di un'app per geolocalizzare perché ce l'ho il file ma ogni volta devo andare a vedere Sardegna quindi perché non è che arrivano in ordine capito ti puoi comprare in mente qui mappamondi che gratti gratti ogni posto tipo fai tipo una grattatina grattatina quelli più grattati ci vai perché sai che c'è più cose da fare cioè facciamo l'app come vuoi chiamarlo app scrocco 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 sono anche bene scrocco ho scritto app scrocco scrocco su scrocco hai piani alti sì però ovviamente ovviamente a gratis i contatti li ho però ovviamente gratis ma la rotura di coglioni è poi andare a geolocalizzarle uno per uno no ma non è tanto creare l'app perché cioè trovi uno che lo faccia gratis vabbè effettivamente non ci metti tanto saranno boh quanti saranno quattrocento cinquecento ma sì in un paio di giorni sì immagino già la barra di ricerca tu cerchi il posto escono fuori parrucchiere dentista ristorante taxi sai cosa sarebbe le robe più disparate sai cosa sarebbe il top che ti avvicini a un posto e ti compare la notifica qui puoi scroccare quello è fantasciente qui è l'uso qui è proprio l'uso la cosa più strana che ti è stata offerta tipo dai vieni da noi e ti offriamo un massaggio ai cinesi con happy ending ma vabbè chirurgia estetica uno vuol farmi trapianto dei capelli ma di tutti giuro c'è apriamo il file c'è di tutto c'è di tutto categoria strani dovresti fare tutti liberi professionisti tanti c'è gente che offre servizi quando quando mi chiamano i personal trainer ne ho tipo venti di personal trainer tutti prendo tutti per il culo se mi trovate un modo per voi per fare in modo che voi vi allenate e io dimagrisco allora ok altrimenti non ha senso se io devo ma anche quelli che vanno dai personal trainer le devono pagare e devono anche allenare farsi del male è la follia più totale un appello a tutti i personal trainer lavorate voi per noi cioè se trovate veramente un modo se ti pago è perché io devo continuare a mangiare e dimagrire se no non ti pago cioè mi alleno io per i cazzi miei cioè fatichi e paghi non fa una piega sono pazzi sono pazzi non so come fanno ad avere mercato non ho niente idea se fossero tutti come me saremmo una cazzonia tutta in disoccupazione disoccupati qua ragazzi siamo in chiusura e loro sanno che alla fine mi piace fare una domanda all'ospite domanda volutamente provocatoria in base a come viene presa e dai risvolti plausibilmente interessanti qual è stato il momento se c'è stato in cui ti sei guardato allo specchio e hai detto ce l'ho fatta dove fatta non si intende sono arrivato al 100% della mia creatività della mia persona ma ti sei guardato e hai detto cazzo ce l'ho fatta anche più di uno non solo l'unico allora secondo me non ce l'ho fatta ancora però secondo me nel momento in cui arrivano i bonifici nel momento in cui arrivano il denaro ti dici cazzo però bella lì mi sto divertendo sto facendo quello che farei da solo magari quando arriva il denaro quando arriva il denaro ce l'ho fatta non fare un cazzo e guadagnare quando si quando non fai un cazzo e arriva il denaro ce l'ho fatta filosofia di Frank alla fine è il suo profilo sono i suoi profili che alla fine è anche un personaggio che cioè è utile perché alla fine se sei un che ne so un cantante è brutto che vai al ristorante e ti dici guarda che io sono questo magari ti faccio una storia e posso non pagare se va a lui sanno già che lui non pagherà esatto lui non ha bisogno di quelle false modeste esatto no no me lo chiedono loro ti invitano ti pregano non pagare per favore non pagare vieni a scroccarci why not vedo di liberarmi dai dai Frank grazie mille per questa chiacchierata è stato un piacere ma quindi non mi pagate un cazzo no 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 ne parliamo dopo no sì dopo dopo sì allora prego grazie grazie è stato un piacere bella grazie mille Grazie a tutti. Grazie a tutti.